Formula si offre al mercato come partner per la trasformazione digitale, un compito che svolge da oltre 50 anni sul mercato italiano e che offre tutte le soluzioni legate sia al mondo operation sia al mondo della governance. Sistemi ERP, sistemi CRM, sistemi MES, sistemi per la pianificazione della produzione, sistemi per la performance management e questo ci permette di offrire alle aziende italiane un'expertisa e strumenti per poter offrire la vera trasformazione digitale.